Oggi il Gaslini presenta la scoperta di una nuova malattia, di cosa si tratta? Allora, è il culmine di uno studio abbastanza lungo che è partito da due pazienti che sono stati seguiti dalla dottoressa Di Rocco che avevano un problema complesso, osseo e immunologico, quindi un'immunodeficienza e di cui si è riusciti, grazie a una collaborazione con il professor Soperti Furga a Losanna, a trovare il gene che era responsabile di questa malattia, quindi che era mutato e partendo da questa scoperta siamo riusciti a spiegare il perché, quindi da quando è stato trovato il gene poi a quando abbiamo trovato il motivo per cui questa mutazione dava questi problemi ci sono voluti 4-5 anni in cui io ho lavorato personalmente a Boston, nel laboratorio del professor Notarangelo in cui mi trovavo e tramite dei modelli che si utilizzano in laboratorio che permettono di unire questi due punti cioè la scoperta di una mutazione ha come mai questa mutazione causa poi questi problemi nei pazienti Quanto è importante una collaborazione internazionale per arrivare a questi risultati? Beh, nel 99% dei casi è basilare, nel senso che è molto difficile riuscire ad avere in un solo gruppo tutte le competenze cliniche e di laboratorio di ricerca, ma di tecniche estremamente complesse che permettano di partire dal punto zero e arrivare alla fine e a spiegare queste problematiche sono molto complesse, quindi anche a Boston poi ci siamo affidati a altri 4-5 laboratori diversi che erano sia a Boston che a San Francisco, a Toronto o a Los Angeles per riuscire a spiegare quindi direi che è essenziale Una volta diagnosticata la malattia, avendo capito il meccanismo, che è la cosa fondamentale sarà possibile in futuro anche trovare una qualche terapia? Allora, ad ora il grosso risultato è riuscire a fare una diagnosi quindi poter spiegare perché in questi pazienti si hanno questi sintomi, quindi queste problematiche è un piccolo tassello, purtroppo in questo caso no, non ha permesso di riuscire a trovare una terapia è un primo piccolo mattone per poi riuscire a sviluppare, si spera in futuro con collaborazioni di nuove internazionali, delle terapie che possano aiutare questi pazienti a Grazie per la visione!